Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti. Eccoci, giovedì 25 febbraio e questa sera andiamo a fare i giri sulle crociere, ma sulle crociere fluviali. Siamo in tanti, come vedete, vedo che state arrivando. Come sempre, se ci sono problemi di linea, se non mi sentite bene, se avete qualcosa che non funziona, scriveteci tramite la chat o altro sistema. Allora, abbiamo molti ospiti, quindi faccio una brevissima introduzione. Sono un po', come dire, poco corretto, ma comincio da chi conosciamo già, che è Simone, che è Simone Maffei del Diamante, quindi del Quality Group, che ci ha già portato in giro nelle Repubbliche Balti qualche settimana fa. Ciao Simone, tutto bene? Tutto benissimo. Molto bene. Poi abbiamo due bellissime signore, sono Barbara, perché abbiamo avuto l'onore questa sera, parliamo di crociere 5 stelle su Reno e Danubio e abbiamo avuto l'onore, ho avuto l'onore di avere qui diretto proprio i rappresentanti delle crociere. Quindi Barbara, che è la responsabile del prodotto Avalon Waterways, giusto? Sì, ciao Gianni, buonasera a tutti. E Chiara, che è la responsabile del prodotto, della diffusione, diciamo così, sulla rete nazionale di questo nuovo prodotto molto particolare che questa sera scopriremo. Ciao Chiara. Buonasera Gianni e buonasera a tutti. E poi abbiamo, io lo chiamo un amico intruso, che si chiama Enrico, che non è un intruso assolutamente, che è rappresentante, che ha voluto essere con noi perché ha preso in carico questo nuovo prodotto e che ce lo porta in giro. Bene, ho già parlato. Grazie, benvenuti a tutti. Ditemi se si sente bene, sia da Facebook, un saluto ovviamente a tutti i nostri amici da Facebook, sia da Facebook che da Internet. Se non ricevo notizie contrarie direi quasi quasi che possiamo iniziare. Mi pare che la prima parola aspetta a te, giusto Simone? Ma sì, sono proprio due parole per introdurre un po' il prodotto crociere fluviali. Noi come Diamante, come catalogo, nel mio catalogo dell'Est Europa, Baltico, Mitte d'Europa, è il quarto o quinto anno che abbiamo deciso di proporre questo prodotto perché ci crediamo molto nel viaggio sui fiumi d'Europa, sui grandi fiumi d'Europa. Sono più anni invece che noi lo proponiamo su Volga, quindi come prodotto Russia. Voi conoscerete senz'altro la collega Stefania Rossi che ha fatto già delle presentazioni sia sulla Russia sia sulla Siberia. È da anni che si vendono tantissimo il crociere sul Volga con diversi tipi di motonave. Ho avuto modo di viaggiare su più di una di queste navi, ho avuto modo di vedere un po' quelle che sono le caratteristiche che hanno fatto sì che si creasse un po' questo alone di prodotto vecchio per vecchi, un vecchio stile che alla fine non attirava più molto l'attenzione di tante persone, specie per l'Europa. Da quando ho cominciato a conoscere altri prodotti ho cambiato idea, ho cominciato a vedere che in realtà, a parte il Volga, insomma il prodotto si è evoluto molto negli ultimi anni, è cambiato molto il concetto del crociere fluviale e lo scorso anno quando ho conosciuto le colleghe di Avalon veramente mi si è aperto un altro mondo perché comunque oltre al discorso di avere delle navi di ultima generazione, oltre ad avere un'offerta molto molto ricca, c'è anche tutto un discorso che veramente mi ha fatto innamorare di questo prodotto e ha fatto sì che lo aggiungessi a quella che è l'offerta diamante che già c'era, di crociere fluviali, ma con questo prodotto si va a completare una nicchia che prima mancava, quindi la gamma alta e la gamma di viaggi diciamo, chiamiamoli pure da sogno perché sono così secondo me. In effetti appunto, mentre prima ho fatto questa crociera sul Volga, ho fatto sul Nilo, quindi di crociere fluviali qualcosa avevo fatto, ma non ero un grande fan del prodotto, adesso invece non vedo l'ora di partire, da quando ho conosciuto questo tipo di prodotto, veramente mi spiace che appunto l'ho conosciuto in epoca Covid, non ho potuto partire subito, ma appena si apriranno le frontiere, appena potremo partire, sicuramente sarà il mio primo viaggio e io non sono molto un tipo da viaggi di gruppo, da cose intruppate, però come vi racconterà adesso Barbara, in realtà è veramente un concetto nuovo di crociera, merita la pena di essere conosciuto, vale la pena di dedicare un attimo di tempo a conoscere questo prodotto e di fare una piccola crociera perlomeno sullo schermo del vostro computer, del vostro smartphone. Ti passo la parola Barbara, poi ti interromperò qualche volta per farti qualche domanda perché cercherò di far partecipi tutti quanti di quelle che sono state le mie impressioni durante i nostri primi incontri e la mia meraviglia di vedere un certo tipo di offerta, diciamo. Un piacere, assolutamente, quando vuoi Simone. Grazie mille per l'introduzione, il tuo entusiasmo ci gratifica tantissimo. Ma secondo me non sarà solo il mio, guarda, penso che sarà una cosa... ci sono buoni motivi per cui anche molte persone fra il pubblico siano entusiasti di questo prodotto perché davvero è una novità rispetto a tutto quello che al momento c'è sulle acque dei grandi fiumi europei, insomma. Non so quanti altri facciano questo tipo. Da quanto ho visto io, da quanto sinora ho visto in questi anni, siete i primi. Poi, non lo so... Un'ottima notizia. Sicuramente nel mercato italiano direi che siete i primi. Grazie, grazie Simone. Allora, appunto, il mercato italiano che è assolutamente nuovo per noi, però appunto ci tengo a precisare, la nostra esperienza nell'operare Crociere Fluviali risale a più di 15 anni fa, quindi abbiamo accumulato questa esperienza finalmente quest'anno, sì, un momento un po' particolare, ma un momento addirittura unico per poter lanciare questo prodotto sul mercato italiano e siamo pieni di energie, non vediamo l'ora di partire. Un prodotto nuovo, come diceva Simone, è un prodotto interessante, è assolutamente perfetto proprio per ripartire, per alcune caratteristiche che poi con piacere vado a illustrarvi. Parto subito con una presentazione, giusto per dare proprio quella sensazione del prodotto e poterla condividere con tutti voi. Allora, eccoci qui. Sì, sta arrivando, perfetto. Perfetto, grazie. Appunto, Crociere Avalon Waterways, una crociera come nessun'altra per molti aspetti, è un prodotto che da sempre si è posto come obiettivo il comfort dei clienti, quindi da lì siamo partiti anche per il nostro approccio sul mercato italiano, quello rimane la nostra priorità. E siamo partiti proprio con il concetto di creare un prodotto che sia per i nostri clienti italiani, qualcosa di particolare, di unico, che solo noi stiamo offrendo sul mercato italiano e partiamo direttamente dal 2021 il prima possibile, speriamo, con partenze garantite in lingua italiana. Quindi quando parliamo di un prodotto italiano, parliamo di un prodotto che offre un servizio sia a bordo che a terra in italiano, quindi tutto il personale di bordo e il personale che accompagnerà i nostri ospiti nelle escursioni parla italiano e questa è assolutamente un'unicità da quello che sappiamo per il panorama delle crociere fluviali in Europa. Scusami se mi intrometto Barbara, ma in effetti forse non sembra una cosa così scontata, ma è davvero difficile trovare qualche operatore fluviale che possa offrire questa cosa qua dell'italiano. La lingua italiana è molto importante per tutti noi, perché comunque molti di noi non sono così fluenti, magari in inglese o in tedesco, quindi chiaramente trovare qualcuno a bordo che parli italiano, oltre alle guide chiaramente, ma qualcuno anche dell'equipaggio, vi fa veramente sentire a casa e non è facile da trovare. In tutti questi anni non mi era ancora capitato di trovare qualcuno che mi desse un range di partenze, tutte garantite, tutte come del personale che parla italiano. Quindi non è una cosa da poco, ecco, scusa Barbara. Assolutamente, quello è proprio l'obiettivo, partire con il piede giusto e qui siamo partiti anche noi appunto nella creazione di questo prodotto. Appunto quando parliamo di crociere garantite in italiano, in italiano cerchiamo anche di evitare il mix di lingue a bordo dei clienti, quindi avremo solo clienti di lingua italiana che verranno magari anche da diverse parti del mondo, ma che condivideranno appunto la lingua, quindi questo faciliterà di molto anche le nuove amicizie, le nuove conoscenze a bordo. La lingua italiana ovviamente è solamente uno degli aspetti unici di questa crociera. Quando parlavo prima di comfort, anche le nostre navi, e qui per la prima volta probabilmente vedete una foto, alcuni di noi l'hanno nello sfondo, però questa è una delle navi appunto che utilizzeremo sui nostri itinerari per il mercato italiano quest'anno. Le navi Avalon, la flotta completa, sono 14 navi, due di queste navi sono dedicate solamente ai nostri clienti italiani nel 2021. Le navi sono state concepite, quindi pensate e poi realizzate proprio con la qualità e il comfort per i clienti. E solo per darvi una piccola indicazione, questo significa anche fare delle scelte probabilmente non facili, quindi decidere di garantire il più grande spazio possibile, il più grande spazio personale ad ogni ospite, facendo anche delle scelte appunto di limitare il numero di passeggeri a bordo proprio per garantire questa massima qualità, questo comfort dei nostri clienti. La stessa scelta è stata fatta anche proprio nel layout delle nostre navi che si differenziano anche da altri operatori proprio per questa impostazione che ha tutta la parte delle aree comuni a prua, quindi distanti dalle aree invece destinate alle cabine che sono tra il centro della nave e la poppa. Questo ci ha sempre garantito appunto il massimo della tranquillità nella zona delle cabine e dall'altra parte la possibilità veramente di divertirsi, di fare musica, di avere intrattenimento serale nella parte invece appunto destinata alle zone comuni. Queste non si incrociano diciamo e sappiamo che purtroppo in altre situazioni potrebbe aver creato dei problemi. Questa è stata la nostra scelta e siamo andati avanti da questo punto in avanti sempre migliorando. Sicuramente un'altra componente unica del prodotto Avalon a cui tengo particolarmente perché sono stata coinvolta nella creazione è la cabina. Quindi partiamo parlando del panorama. Il panorama è una cosa importantissima per noi quindi la destinazione è quello che c'è fuori dalla nave. Quindi questa è una cosa che teniamo molto cara quando sviluppiamo gli itinerari quando pensiamo appunto a quali possono essere le esperienze dei nostri ospiti. Quindi in realtà la nave è un boutique hotel galleggiante certo un bellissimo boutique hotel galleggiante un boutique hotel 5 stelle ma la destinazione rimane appunto poi l'esperienza che si fa durante le escursioni quindi anche diciamo il connettersi con la destinazione dei nostri clienti. Cosa facciamo? Cerchiamo proprio di avere questa immersione della destinazione con l'interno della nave garantendo che in qualsiasi spazio a bordo sia la cabina sia gli spazi comuni che vedremo tra poco abbiano questa apertura verso l'esterno quindi questo panorama verso l'esterno. La cabina in particolare è stata una scelta estrema abbiamo deciso di praticamente abbattere una delle pareti della cabina e trasformare quella parete in una finestra panoramica che si apre per ben due metri e che quindi trasforma tutto lo spazio interno effettivamente come in un balcone indoor balcone al coperto una domanda stupida stupida sono solo cabine esterne giusto? Sono assolutamente tutte cabine esterne sì grazie Gianni tutte cabine esterne tutte con uno sbocco esterno e questa finestra panoramica dà la possibilità di non togliere superficie calpestabile alla cabina quindi spazio utile e necessario per vivere bene all'interno della cabina ed ha comunque la possibilità di avere uno sbocco all'esterno quindi anche qui una scelta contro tendenza rispetto a un balcone esterno che molte volte per quanto riguarda le crociere fluviali non è del tutto utilizzabile quindi questo ecco facilita proprio l'usufruire di questo spazio esterno nel miglior modo possibile questo è proprio per darvi l'idea di quanto panorama si possa vedere dalla camera quindi questo è il tipo di comfort il tipo di lusso informale di cui parliamo sempre quindi il totale relax e la totale immersione con i paesaggi c'è da dire che appunto le crociere fluviali sono un prodotto particolare proprio perché danno una possibilità eccezionale di vedere passare e scorrere i paesaggi fuori dalla propria finestra sono paesaggi che cambiano continuamente e quindi sarebbe un peccato perdersi anche solo un momento di questi paesaggi poi devo dire io non sono un fan delle crociere come Simone ma a parte il turismo slow che ovviamente sta diventando anche a seguito di tutto quello che sta succedendo quest'anno e l'anno scorso molto di moda ma poi è proprio questa possibilità di vedere da un altro punto di vista se io vado a vedere le capitali o delle città d'arte le raggiungo ma se le raggiungo con un aereo o con un pullman vedo una cosa completamente diversa e quindi un punto d'occhio completamente diverso punto di vista completamente diverso sai Gianni poi noi appunto abbiamo la grossa la grossa fortuna di poter arrivare veramente vicini a centricità quindi in realtà tutto quello che è tutti i trasferimenti tutta quella parte un po' noiosa del poi del raggiungere la destinazione con noi non c'è perché appunto si tratta di disfare le valigie una volta farsi trascinare trasportare lungo il fiume da questa bellissima nave e raggiungere le destinazioni in un modo veramente confortevole che sia proprio senza pensieri senti abbiamo già delle domande come dire più tecniche c'è Marco che ci chiede quante cabine ci sono e quante persone possono contenere le cabine sì allora grazie Marco ci sono dipende da abbiamo due navi di due grandezze diverse quindi il totale delle cabine sono 64 per la nave piccola e 84 per la nave grande e tutte le cabine possono contenere un massimo di due persone non abbiamo cabine triple e ci tengo anche a specificare che non ci sono cabine comunicanti quindi per le famiglie c'è due adulti e un bambino per quanto riguarda i bambini appunto chiediamo sempre la crociera è un prodotto ideale per i bambini sopra gli otto anni e chiediamo che condividano la cabina con uno dei due genitori si possono ovviamente assegnare cabine vicine quindi comunque sono cabine che rimangono vicine però non sono collegate internamente perfetto grazie Marco questa come vedete qui è l'upgrade tutti gli alberghi che si rispettano hanno anche la categoria upgrade abbiamo anche noi la nostra Royal Suite che è una cabina ancora più panoramica nel senso che ha due finestre panoramiche più spazio in cabina le stesse amenities che abbiamo nella cabina panorama semplicemente un layout diverso a volte ci viene fatta questa domanda rispetto anche ai bagni di solito io la mia esperienza perlomeno con le crociere in mare è stata non forse delle migliori però insomma è stata la parte più lo spazio un po' più risicato era proprio quello del bagno il bagno delle cabine sulle navi Avalon è un bagno che si può proprio definire un bagno nel senso che gli spazi ci sono è curato nei minimi dettagli quindi era solo per darvi un'idea appunto di come fosse molto simile a un bagno di un qualsiasi hotel 5 stelle assolutamente il classico bagno delle crociere fluviali di tutte le navi che ho avuto modo di visitare io era quella classica cabina umida plasticosa dove c'era l'angolino con la tendina per la doccia o poco più è veramente tutto molto molto claustrofobico la stessa cabina a volte ti faceva voglia di dormire puoi uscire subito mentre qui in queste cabine uno veramente ha piacere anche di passarci del tempo anche per guardare il panorama cosa che non in tutte le cabine è possibile fare insomma assolutamente Simone non in tutte le navi c'è questa possibilità e non c'è questa piacevolezza nello stare in camera ecco molto spesso mi capitava di entrare in certe cabine e di dire non vedo l'ora di uscire perché erano veramente claustrofobiche qui è una sensazione che non capiterà avete visto le cabine Simone se ne è già innamorato ma come puoi non uscire la cabina se poi fuori c'è qualcosa così quindi questa è la nostra lounge panorama quindi è la lounge più grande all'interno della ma non l'unica all'interno delle delle navi Avalon e questo è proprio il filo conduttore del panorama come vedete si snoda dalla cabina agli spazi comuni quindi questo è uno spazio dove tutti i nostri clienti possono essere ospitati contemporaneamente e qui si svolgono le attività a bordo come per esempio l'incontro con il direttore di crociera ogni giorno per parlare del programma del giorno dopo piuttosto che l'intrattenimento serale con dei performers locali e il nostro musicista di bordo quindi qua è un luogo proprio di incontro è un luogo anche di relax ottimo per la lettura viene servito ovviamente dal servizio bar dalla mattina fino alla fine dell'intrattenimento serale la sera e fino a quando abbiamo ospiti ovviamente nella lounge e quindi uno spazio aperto arioso che non dà proprio nessun senso di claustrofobia o nessun senso di essere nel posto sbagliato come magari anche troppe persone attorno quindi questo dà la possibilità come avete visto probabilmente finora la sensazione è quella di poter scegliere esattamente come vivere la propria crociera nel senso come diceva Simone prima per chi non è amante delle dinamiche di gruppo questi spazi danno la possibilità in realtà di vivere la propria crociera come una coppia come un singolo in totale indipendenza perché ognuno ha il proprio spazio personale garantito rompo solo un secondo perché abbiamo tante domande ci sono molto interessate molto bene allora la prima domanda è Rita che ci chiede dove possiamo trovare sono da Facebook queste domande dove possiamo trovare i programmi beh ovviamente li potete trovare sul catalogo degli amanti comunque del quality group sono tutti presenti online sì sono già stati tutti caricati esatto sono già tutti caricati fra poco li troverete non tutti ma una selezione sul sito pianeta Gaia perché comunque come voi sapete noi abbiamo l'abitudine di caricare devo fare una selezione insieme a Simone o meglio farmi consigliare da Simone e Barbara faremo una selezione qualcosa lo mettiamo poi ovviamente esiste il sito della Avalon Waterways che uno può andare a curiosare a vedere io ho visto che è molto ben fatto ricco di foto e quant'altro e ci chiedono della cucina e anticipo già che la cucina ne parleremo ampiamente perché è un aspetto molto importante quella è una delle cose che più mi hanno colpito diciamo perfetto la libertà di scelta e la possibilità di rendere il viaggio un'esperienza individuale passa molto anche dalla cucina e dal fatto di non dover andare a un'ora predefinita sul tavolo predefinito mangiare cose che hai dovuto decidere il giorno prima quindi Simone sta svelando tutti i nostri segreti un concetto nuovo ma non vado a spoilerare veramente vale la pena di approfondirlo con Barbara e poi c'è una piccola domanda tecnica che Luisa chiede se c'è la sistemazione per adulto child quindi nel caso di famiglie si sono previste qualche riduzione qualche promozione per casi di famiglie che quindi insomma vorrebbero usufruire di questi servizi ma come dire immaginando che se non c'è la riduzione triplo quadrupa se c'è qualche promozione qui lascio probabilmente forse più a Simone rispondere su questo perché allora ci stavo lavorando in questi giorni non sono sicuro devo approfondire ma non sono sicuro al momento non ho fatto caso non ho visto delle riduzioni però devo verificare farò più un po' di domande anche a Chiara e a Barbara per vedere se c'è qualche possibilità diciamo diciamo che è una domanda tipicamente questo è un prodotto più da coppie che da famiglie diciamo però mai dire mai quindi vediamo vediamo un attimo insieme in questi giorni cosa si può fare molto bene la domanda è arrivata al momento giusto quindi avete da lavorare assolutamente a te la parola grazie continuiamo con l'altra lounge quindi un altro scorcio della nave quindi questa è una lounge che si trova a poppa della nave non sovrasta nessuna delle cabine quindi il stesso discorso di cui parlavamo prima assolutamente isolata una lounge più raccolta sempre con un spazio anche esterno usufruibile e in questa lounge troviamo tra l'altro la nostra come si chiama coffee station quindi un angolo dove si possono prendere bevande calde fredde snack 24 ore su 24 non è poca cosa perché su certe navi questa coffee station era una una misera macchinetta del caffè sul corridoio con due bicchierini di carta e basta mentre invece mi sembra che ho visto nella foto che mi avevi girato l'altro giorno che è tutta altra cosa molto fornita e molto ben mantenuta quindi sempre disponibile H24 giusto? Sì H24 perché su certe navi in realtà c'è da colazione a cena o dopo cena poi nell'altra faccia oraria non c'è mentre uno dice vuole andare in camera a dormire vuole un tè vuole qualcosa e la possibilità c'è da sempre assolutamente confermo perché tutte le volte che mi è capitato di essere in nave io sono proprio una da tè o cavo o milla prima di andare a dormire e qui ho sempre trovato tutto quello che mi serviva vai che ci chiedono già gli itinerari Barbara sono curiosi eh lo so stanno arrivando stanno arrivando andrò velocissimo allora l'osservatorio uno spazio esterno anche qui panoramico da dove vedere le manovre della nostra crew nautica anche qui servito dal bar solo per farvi vedere anche un po' gli esterni di questa nave e lo sky deck appunto il ponte sky che è proprio la parte più esterna dove come potete vedere adibito per il relax per prendere il sole per prendere l'ombra con una jacuzzi anche che è aperta dall'alba fino al tramonto quindi a disposizione di tutti i clienti ovviamente incluso non c'è da prenotare non c'è da pagare assolutamente nulla extra è tutto a disposizione dei nostri clienti la cosa bella è anche questa che in effetti gli extra da pagare praticamente non ci sono dal wifi all'affitto delle bici a altre cose cioè praticamente è già tutto incluso quindi veramente è qualcosa di molto diverso da quello che c'è in giro diciamo Barbara è il tuo più grande sponsor ma guarda veramente l'abbiamo fatto innamorare che parlerà un po' dell'itinerario la cosa principale dell'itinerario secondo me è la vera caratteristica che distingue questo prodotto da tanti altri che non è che c'è la nave che si ferma il pullman fuori che ti aspetta che ci si intruppa nel gruppo si va a fare il giro poi si viene riaccompagnati ma anche qua è molto adatta agli orsi come me che sono molto allergici ai viaggi di gruppo quindi scendi cosa fai puoi scegliere la scelta è veramente la parola chiave di questo tipo di prodotto nel senso che a seconda di come ti senti quel giorno lì puoi fare una biciclettata puoi fare il classico tour puoi fare il giro a piedi adesso me ne parla Barbara insomma ho beccato la parte giusta sì allora andiamo diretta agli itinerari cerchiamo di capire queste navi bellissime dove vanno cosa fanno quali sono le esperienze a terra quindi assolutamente sulla linea di quello che stava dicendo il nostro più grande promotore qua Simone la nostra crociera noi facciamo tutto quello che dobbiamo fare e diamo tutte le opzioni possibili perché poi ognuno possa mettere insieme il suo pacchetto la sua vacanza ideale e fondamentalmente costruire la sua crociera come meglio crede quindi la massima libertà di scelta in un range di opzioni veramente grandi le esperienze che offriamo come diceva Simone appunto sono praticamente infinite perché in ogni destinazione in ogni punto dove ci fermiamo offriamo un range di escursioni tutte incluse tra cui scegliere e quindi chiunque abbia magari già visitato una città piuttosto che un'altra potrà trovare e potrà trovare il modo di visitarla ancora sotto una chiave completamente diversa e con uno spirito completamente nuovo quindi ci tengo a ribadire che tutte queste opzioni che adesso vi andrò a mostrare sono incluse nel prezzo quindi è solo una questione di scelta un aspetto negativo se dobbiamo trovarne uno è che alla fine uno si sente di perdere un mucchio di robo facendo così perché ne scegli una ne perdi 4 o 5 ne devono tornare semplicemente dovranno fare più di una crociera per fare tutte le esperienze allora quando parliamo di scelta l'estremo di questa scelta per noi sono gli itinerari active and discovery abbiamo degli itinerari che chiamiamo intramontabili offerti al mercato italiano ai nostri clienti italiani già nel 2021 poi abbiamo voluto strafare perché abbiamo pensato già su quegli itinerari abbiamo dato un tot di scelte per quanto riguardava le escursioni ma adesso esageriamo quindi cerchiamo di includere ancora più cose ancora più scelte ancora più attività esperienziali e questa è una prerogativa è un'unicità di ovviamente di Avalon Waterways che ha lanciato questo prodotto qualche anno fa sul mercato Overseas e adesso finalmente lo può far conoscere anche i clienti italiani solo per darvi un piccolo assaggio di quante cose siano incluse su una crociera active and discovery sul Reno che è proprio uno degli itinerari che offriamo quest'anno 2021 vedete che ci sono delle piccole scritte active discovery classic abbiamo tre tipologie di escursioni diverse che sono appunto la classica un po' più giro città guidato ovviamente alla scoperta appunto più dell'architettura della storia piuttosto che un'escursione active che è un'escursione che ci porta a stare un po' più a contatto con la natura fare un'attività non direi non fisica assolutamente non strenua niente di impossibile qualcosa di adatto a tutti ma che ci porta un po' in movimento ecco più in movimento dell'escursione classica e poi ci sono le escursioni discovery che invece sono delle escursioni che proprio vogliono dare l'esperienza viva di provare qualcosa di fare qualcosa quindi tutta quella quella parte esperienziale che poi a quanto sappiamo proprio crea quei bellissimi ricordi e quella voglia di tornare quindi vedete che sull'active and discovery del Reno uno degli itinerari ogni giorno offriamo almeno un'escursione di ogni tipologia tutte incluse mediamente quanto durano gli itinerari che è una domanda che chiedevano prima sì allora gli itinerari dipende però abbiamo sul Reno e ci sto proprio arrivando abbiamo di itinerari di otto giorni quindi sono sette notti otto giorni sul Danubio come vedremo adesso abbiamo anche una scelta con itinerari più brevi e itinerari che arrivano fino a nove giorni il Reno è appunto uno delle due i fiumi che abbiamo scelto con cui abbiamo scelto di cominciare perché è un grande classico quindi il Reno così vicino però così ancora tutto da scoprire il Reno ovviamente copre più di questi stati che io menziono qua i Paesi Bassi la Germania e la Francia questi sono gli stati che però tocchiamo con i nostri itinerari gli itinerari in realtà partono due di questi partono da Basilea dalla Svizzera ma in realtà non hanno un programma in Svizzera quindi ci siamo tenuti un po' indietro abbiamo menzionato solamente quello dove veramente abbiamo un programma questi sono appunto gli itinerari Gianni di cui ti parlavo sono otto giorni per i nostri itinerari intramontabili che vedete qui Romantico Reno in due direzioni quindi nella direzione da Amsterdam a Basilea e nella direzione da Basilea a Amsterdam con partenze sempre il martedì l'altro itinerario che offriamo sempre sul Reno è proprio quello che stavamo vedendo poco prima ed è l'Active Discovery quindi sempre otto giorni però con un itinerario leggermente diverso perché a Magonza dove poi il Reno fa una curva per andare verso la parte di Svizzera diciamo qui invece noi ci allontaniamo e andiamo verso Francoforte dove finisce la crociera molto interessante partiamo con il botto come si dice quindi Amsterdam Amsterdam probabilmente appunto una delle mete che è anche un po' più conosciuta potrebbe essere per i nostri clienti qui offriamo ovviamente la girocità la Canal Cruise con con la nostra guida la possibilità però anche di aggiungere qualcosa di molto particolare perché dopo il giro con per i canali di Amsterdam noi ci fermiamo al Museo dei Diamanti Gassan per una visita proprio al Museo dei Diamanti possibilità per coloro che vogliono fare un regalo anche di acquistare i diamanti e poi il ritorno appunto alla nave a piedi attraverso i quartieri meno conosciuti di Amsterdam perché meno battuti ovviamente dalle guide turistiche gli itinerari del Reno comprendono anche Colonia e anche qui iniziamo già con due opzioni dove abbiamo il girocità più tradizionale di Colonia e un girocità che invece è improntato su tutta la tradizione ebraica di Colonia e quindi andrà proprio a visitare le sinagoge i luoghi dove sorgevano le sinagoge che adesso non ci sono più e quindi si incentrerà tutto su quella parte di tradizione della città ancora molto forte ovviamente ci sono anche i centri un po' più piccoli ovviamente perché non vogliamo focalizzarci solamente sulle grandi città ma questa l'esperienza della crociera fulviale dà l'opportunità veramente di raggiungere dei posti che sono così tradizionali così tipici che sarebbe un peccato mancarli sull'itinerario Rudesheim è proprio uno di questi Rudesheim ha la grandissima caratteristica di essere un paese molto piccolo che è tempestato di persone perché è una meta ideale per fare passeggiate nella natura come vedete qui c'è anche una funicolare che porta a un monumento che si chiama della Germania Unita un monumento di più di 40 metri che sta proprio in cima alla collina qui e noi offriamo appunto una passeggiata proprio tra questi vigneti con la possibilità di usare la funicolare o per scendere o per salire come preferiscono i nostri clienti e in alternativa offriamo invece di andare a visitare questo edificio che vedete qui sulla destra che è il museo degli strumenti musicali meccanici Siegfried dove praticamente sono esposte una grandissima varietà di carillon giganti quindi tutti strumenti che sono azionati meccanicamente e c'è questo giro di questo museo assolutamente unico nel suo genere storico ovviamente e la possibilità anche di acquistare dei carillon da portare a casa come ricordo di questa parte di itinerario Ti interrompo solo un istante perché sto vedendo che stanno arrivando una serie di domande un po' più tecniche soprattutto da Facebook direi che ti facciamo finire questa parte più emozionale così ci godiamo questa cosa poi dopo andiamo con qualche domandina più specifica Vai pure Sì Heidelberg è un'altra delle fermate delle nostre crociere sul Reno andiamo a visitare il castello di Heidelberg con il grande Tino che è appunto questa botte gigante che porta più di 200.000 litri di vino come vedete una zona spettacolare con una vista veramente spettacolare è una delle nostre fermate dove facciamo un'escursione a giornata a giornata intera Magonza al Museo Gutenberg per scoprire tutto riguardo la scrittura e ovviamente non possiamo mancare Strasburgo con la sua Petite France dove facciamo anche qui un giro per i canali di Strasburgo e la possibilità ovviamente dopo ogni escursione nostra guidata di avere del tempo libero ci tengo a precisare anche che appunto tutto quello che noi offriamo ovviamente non è assolutamente obbligatorio le nostre navi sono ormeggiate come dicevamo prima vicino al centro chiunque e in qualsiasi momento quando la nave è ormeggiata ha la possibilità di andare ad esplorare indipendentemente quindi non si deve unire alle nostre escursioni è un'ulteriore opzione quella appunto di prendere una mappa e andare alla scoperta indipendentemente certo e per finire questa parte la foresta nera appunto che ci avvicina a Braiza che quindi a Basilea in quella direzione dove la nostra la nostra guida ci porta a fare un giro ovviamente panoramico della foresta nera visitare un museo a cielo aperto dove viene ancora viene spiegato come si è sempre vissuto nella foresta nera quali siano stati finora diciamo i lavori più più come si può dire più conosciuti del luogo tra cui quello di produrre gli orologi a cucù che qui vedete appunto la casa del cucù con il nostro signor R che ancora oggi fa una dimostrazione di come si intaglia il legno come si riproducano i cucù si possono acquistare i cucù e nell'attesa appunto di fare il ritorno alla nave possiamo gustarci ovviamente una bella fetta di foresta nera perché non avrebbe senso andare in questa zona e non provare la torta tipica certo Gianni dimmi tu se preferisci prima passare alle domande tecniche ho solo qualche slide per quanto riguarda l'active and discovery proprio per far capire quante sono le opzioni dell'active and discovery ok perfetto quindi ad Amsterdam abbiamo visto la crociera sui canali ma sulle crociere active and discovery abbiamo altre due opzioni sempre in contemporanea quindi se si è già fatta la crociera sui canali si può andare a fare un bel giro in bici nella campagna vicino ad Amsterdam fuori dal traffico in assoluta sicurezza ovviamente con diverse fermate anche gastronomiche durante il giro in bici oppure ci si può cimentare e provare a riprodurre un quadro di Van Gogh in una teglia di Amsterdam sotto la guida di un insegnante d'arte quindi anche questo non vi posso mostrare il mio quadro non ce l'ho qui però di là ho il mio tentativo di un paio di anni fa bene Arnhem è una fermata dell'active and discovery appunto dove ci focalizziamo anche su località un po' più piccole Arnhem ci dà la possibilità di fare anche qui un'attività un'escursione active quindi sempre con la bici andando nel parco nazionale del Logue Veluwe che è appunto il parco dove si trova anche il museo Kröller Müller che vedete nella foto in alto a destra che contiene la collezione più grande di opere di Van Gogh al mondo per coloro che invece volessero provare un po' l'ebrezza di assaggiare prodotti locali il castello che vedete qua sotto una visita al castello di Dortwert dove c'è appunto l'assaggio di prodotti locali che sono coltivati e prodotti proprio dalla gestione del castello Magnifico Dusseldorf per chi non la conoscesse appunto può approcciarla facendo un giro gastronomico a piedi con la guida e poi Elfield la città delle rose anche questa è una fermata dell'active and discovery sul Reno dove si ha la possibilità di visitare la cittadina di Elfield fare una passeggiata nelle vigne oppure andare al monastero di Eberbach che è il monastero che ha ispirato il romanzo Il nome della rosa e qui sono state girate anche di diverse scene del film e quindi appunto un'altra parte di storia un altro pezzo di storia che si può che si può imparare che si può scoprire grazie a queste crociere active and discovery fantastico sono delle crociere alternative adesso facciamo ovviamente abbiamo fatto questo rapido discursus per far vedere un attimino quelle che potevano essere le attività non sono tutte non è che facciamo tutte le crociere ma è solo per dare a colpo d'occhio che cosa si può fare all'interno di questa crociera con tutte le attività già incluse ti faccio quattro domandine che sono arrivate veloci veloci dunque innanzitutto chiedono ovviamente non c'è il biglietto aereo del treno perché si raggiungono con i propri mezzi noi siamo qui proprio per prenotare noi o Diamante i trasferimenti mentre quando uno arriva in aeroporto in treno la crociera prevede già i trasferimenti ci chiede una persona in realtà scusa se ti interrompo Gianna ma il prodotto in sé comprende già la biglietteria aerea assolutamente già compresa la biglietteria aerea per arrivare all'aeroporto più vicino e comprende già trasferimenti dall'aeroporto alla nave quando uno arriva all'aeroporto trova già l'incaricato che lo aspetta e lo porta alla banchina dove c'è l'imbarco diciamo sono comprese anche le tasse portuali nella quota quindi c'è già veramente tutto non ci sono da aggiungere altre spese chiedo scusa allora colpa mia che ho letto male invece anzi ho letto proprio poco scusatemi invece l'altra domanda è sempre per quanto riguarda le cabine con dei bambini dicevi prima tu che normalmente sono cabine vengono accettate sulle navi di bambini da 8 anni quindi se persone hanno dei bambini da 3-4 anni non possono essere accettati sulla nave o possono essere accettati in via eccezionale in una cabina purtroppo non possono accettare perché proprio l'operatore della nave ci mette questo vincolo per questione di sicurezza ok perfetto possiamo andare avanti procedi pure grazie allora la scoperta del Danubio anche qui il Danubio che passa 10 nazioni e alcune di queste verranno toccate ovviamente anche dai nostri itinerari per quanto riguarda il Danubio abbiamo qui degli itinerari che vanno da 4 giorni quindi come l'abbiamo chiamato giustamente un assaggio del Danubio che va da Budapest a Vienna o da Vienna a Budapest questo itinerario non comprende una parte un programma a Budapest a Vienna quindi l'itinerario ideale poi da poter combinare se qualcuno ha piacere a fare dei pacchetti appunto a Budapest a Vienna o partire da questo per poi provare una crociera magari più lunga come quella dell'incantevole Danubio che è di 8 giorni che va da Budapest ad Eggendorf in Germania e viceversa e anche sul Danubio non abbiamo voluto perdere l'occasione di mettere e di far provare la crociera Active and Discovery che in questo caso appunto è durata di 9 giorni e va da Budapest a Linz o viceversa cosa non mancheremo sicuramente queste sono un po' quello che bisogna avere su questi itinerari quindi sicuramente visiteremo Vienna Passavia anche chiamata la città dei tre fiumi perché qui il Danubio si incontra con Lin e Linz quindi si ha proprio la confluenza dei tre fiumi spettacolare da vedere spettacolare quanto è Budapest sia la parte più appunto arroccata di Buda che la parte più nuova più recente di Pest e anche Linz quindi la capitale diciamo mi permetto di dire più culturale in Austria è interessantissima da vedere con davvero tantissimi musei contemporanei si è sviluppata moltissimo negli ultimi anni una perla magari un po' meno conosciuta di Bratislava dove c'è la possibilità di andare a fare un giro appunto della città o anche una camminata un po' più in salita per raggiungere il castello che vedete proprio alle spalle del centro città e poi i centri anche qui un po' più piccoli come Melk dove c'è l'abbazia dai colori spettacolari una abbazia che è stata prima un palazzo storico poi appunto è diventata un'abbazia dove troviamo una biblioteca gigante una sala dei marmi incredibile e una vista mozzafiato ovviamente sul fiume Danubio a Melk ci arriviamo proprio grazie alla navigazione dell'Avacao Valley che è una parte molto scenografica del Danubio ed è una parte molto anche conosciuta per la produzione dei vini perché qui si è creato proprio un microclima particolare che la rende adattissima alla produzione dei vini per quanto riguarda appunto questa zona e anche quello che abbiamo visto fino adesso del Reno tantissime delle nostre destinazioni e dei punti dove ci fermiamo sono stati dichiarati patrimonio dell'UNESCO e anche l'Avacao Valley è proprio una di queste Durstein Riccardo Cordileone è rimasto bloccato qui dopo le crociatte quindi è rimasto imprigionato a Durstein e quindi qui c'è tanta storia si può andare anche qui a visitare le rovine del castello che vedete sempre alle spalle una chiesa particolarissima di colori accesi e la possibilità appunto di visitare questo piccolo centro con anche piccole degustazioni insieme alla guida quando parliamo di Active and Discovery anche per il Danubio aggiungiamo tantissime opzioni quindi per Budapest per non fare il solito giro città c'è la possibilità di farlo in bicicletta andare un pochettino più fuori quindi vedere un pochettino più la parte meno meno trafficata del centro città o si può scegliere di unirsi a una scrittrice di libri di viaggio che si chiama Kinga che io conosco personalmente Kinga Tittel è una scrittrice appunto che porta i nostri ospiti a fare un giro insolito della città tra il mercato tra i luoghi che hanno ispirato poi in realtà i suoi libri di viaggio quindi una cosa un'immersione molto più personale con la destinazione ti faccio una domanda mia personale le attività che fai sulla crociera Actia in Discovery sono solo quelle o possono unirsi anche con delle attività più classiche ci sono proprio due mondi paralleli che non si incrociano mai o sono sono tutto quello che sto mostrando adesso è in aggiunta all'opzione classica quindi tutto e di più ecco Visegrad anche qui la possibilità di visitare Visegrad ovviamente o partecipare come spettatori in questo caso a questo torneo medievale e assaggiare anche le specialità di quel tempo oppure lasciarsi trascinare dalle acque molto tranquille di un ramo del Danubio separato che andiamo a visitare con la canoa ovviamente sempre un'escursione guidata in tutta sicurezza e poi Engelharzel un'altra fermata dove per gli appassionati di birra trappista è la fermata ideale qui si va a visitare appunto uno dei tanti monasteri dove i monaci stanno ancora producendo la birra e vendendo la birra o per magari forse un po' più per le signore c'è la la scuola di cucina di Barbara Brown dove si impara appunto a cucinare questi famosi noi per noi sarebbero cannoncini diciamo ma sono giganti e sono tipici di appunto di Engelharzel e quindi quest'altra possibilità di fare questa lezione di cucina con Barbara per finire abbiamo le due fermate di Crems e Spitz posti magari appunto dal nome sconosciuto ma pieni di attività da fare e davvero come posso dire interessanti che riempiono la giornata perché anche qui si può andare a fare una pagaiata sul Danubio si possono incontrare dei produttori di prodotti locali in particolare albicocche e quindi fare una degustazione e farsi spiegare tutto il procedimento appunto della coltivazione una bella esperienza di degustazione di vino quindi una spiegazione dei vini della regione e una degustazione di vino o quello che adesso ormai è diventato un po' il classico anche appunto di prendere una bici e farsi trasportare da quella alla scoperta dei vigneti di tutta l'area seguendo in questo caso per un pezzo la nave che sta navigando e quindi vedendo proprio la nave che naviga parallela e il gruppo che segue con la bici questa attività ormai avrà fatto venire un certo appetito a tutti quanti quindi direi di passare se sei d'accordo alle cose vista anche l'ora alle cose più mangerecce ti fermo però perché ho alcune domande perché questa sera abbiamo veramente tantissime domande e queste dimostrano l'interesse ottimo allora innanzitutto qualcuno ci chiede se dopo aver esaurito l'argomento bimbi se invece ci sono qualche come dire possibilità di sconti o delle cose previste per i single che quindi occupano una cabina da soli e non in due e qui Simone ci dirà qualcosa e poi ci chiedono beh la riconferma che il personale parla italiano mi pare di poter dire di sì assolutamente sì due informazioni veloci su quello che su che tipo di intrattenimento c'è a bordo e poi ci fanno una domanda che abbiamo già previsto come risposta che risponderemo alla fine cioè che tipo di protocollo covid viene viene proposto aggiungo solo una cosa dalle escursioni che tu hai che abbiamo visto ce ne sono talmente tante che immagino che i gruppetti per queste escursioni siano molto molto piccoli giusto come numero assolutamente sì sì sono molto piccoli perché appunto ci sono tante scelte in realtà appunto si cerca di dare queste scelte e poi dividere il gruppo che è una cosa ideale soprattutto in questo momento non appena riinizieremo appunto di mantenere dei gruppi piccoli non affollati dove si possa ovviamente anche garantire il distanziamento tra le persone prima magari posso rispondere direttamente all'intrattenimento quindi posso dire che noi abbiamo un musicista a bordo che è sempre a bordo quindi oltre all'intrattenimento serale piano bar con i grandi classici un po' internazionali e quindi anche la possibilità a volte di fare il karaoke abbiamo anche dei performers locali che vengono e fanno appunto le loro performance sono le più disparate quindi c'è dalla musica classica alla musica un po' di serata danzante anni 60-70 piuttosto che cantanti lirici sono veramente cose diverse praticamente ogni sera quindi si cerca veramente di accontentare il gusto di tutti Simone stai pensando a qualche come dire aiuto per i singoli allora il discorso supplemento singola in me è sempre una nota molto dolente per tutte le navigazioni fluviali soprattutto diciamo che non tutte le tipologie di cabine hanno lo stesso supplemento quindi se si vuole risparmiare qualcosina in certa tipologia di cabina il supplemento è un pochettino più moderato sul fatto che ci siano poi delle date particolari beh su questo adesso ci lavoriamo ancora quindi ci sentiremo in questi giorni con Chiara e con Barbara per vedere se in alcune dati si riesce a avere delle promozioni per il singolo dobbiamo fare una data pianeta Gaia vediamo che cosa succede bene bene va bene perfetto arriviamo siamo vicini allora beh sì ci siamo avvicinati quindi partiamo con l'altro aspetto importantissimo la cucina a bordo la cucina come potete vedere sicuramente è curata nel minimo dettaglio abbiamo sviluppato i nostri menù con l'aiuto di questi due baldigiovani vedete qui che sono i fratelli Vrenchi i fratelli Vrenchi sono astri nascenti della cucina sana vegetariana ma in generale sana che usa prodotti locali e loro lavorano in Austria e ci hanno proprio aiutato a sviluppare questo prodotto per essere certi di utilizzare prima di tutto degli ingredienti di prima qualità ma poi anche di offrire vicino ai piatti un po' più golosi anche tante opzioni un po' più bilanciate un po' più sane quindi non mancano assolutamente i piatti golosi ma ad ogni ad ogni passo della giornata ci sono anche molte opzioni che vengono proprio evidenziate come Avalon Fresh che danno questa possibilità di tenere un po' più sotto controllo la linea diciamo ecco avere un po' meno senso di colpa ecco quando parliamo appunto del senso di colpa probabilmente il senso di colpa sarà quello che alla fine della crociera non si è ancora provato a tutte le nostre opzioni per i pranzi e le cene a bordo perché abbiamo veramente tante opzioni e tanta scelta come abbiamo visto sulle escursioni e sulle esperienze anche per quanto riguarda la parte dei pasti a bordo quindi tutte queste che vedete qui sono tutte possibilità quindi il ristorante Panorama il Panorama Bistro anche il servizio in camera che abbiamo ulterior modo allargato proprio per questa situazione covid per dare la massiva tranquillità agli ospiti di poter consumare anche il pasto in camera il pranzo barbecue che è lo sky grill e anche la possibilità di prendere il cesto del picnic e andarsi a fare un picnic quando si è fermi a destinazione tutte queste opzioni sono incluse nel prezzo non hanno necessità di prenotazione e quindi in qualsiasi momento i nostri ospiti possono decidere se unirsi a uno o all'altro pranzo o cena il ristorante Panorama è la diciamo la venue il posto principale per i pasti a bordo colazione pranzo e cena colazione pranzo finora sono stati serviti a buffet proprio per i protocolli covid il buffet sarà sostituito da un buffet servito dal personale e una parte invece che andrà diventerà da menu quindi proprio per evitare l'affollamento al buffet e al ristorante Panorama si serve anche la cena appunto seduti di quattro portate con il nostro staff tutte le bevande vino birra bevande analcoliche ovviamente acqua tè caffè sono incluse con tutti i pasti questo un'altra grossa differenza a volte viene un po' messo nel piccole scritte in fondo adesso ci tenevo a dirlo a dirlo se non lo dicevi tu dicevo anch'io perché comunque normalmente c'è sempre l'acqua inclusa e un bicchiere di vino quando va bene insomma quindi quindi veramente uno non può anche non può scegliere veramente in tutta libertà quello che preferisce senza timori di avere il conto finale troppo alto quindi in realtà non c'è conto finale e ricordiamo anche appunto che grazie alla nostra coffee station poi c'è tutta quella selezione di bevande che sono sempre disponibili H24 quindi rimangono veramente fuori gli alcolici fuori dai pasti ma tutto il resto è incluso solo per per creare l'appetito visto che ci avviciniamo allora questo è per darvi l'idea appunto non sono solo belli ve lo posso assicurare sono anche buoni io faccio sempre ammenda ogni volta che vado sulla crociera per i miei un paio di chili sicuramente li porto a casa panorama bistro è l'altra opzione per la cena dove facciamo una cena degustazione molto molto semplice easy molto più veloce rispetto alla cena servita che abbiamo nel ristorante questa opportunità è proprio quella di prendere queste monoporzioni e poterle gustare o nella lounge oppure anche in cabina oppure sullo skydeck quindi in massima libertà di prendere quanto si vuole e consumarlo dove si vuole anche qui senza prenotazione e senza costo aggiuntivo la cena veloce secondo me è molto interessante soprattutto per i casi in cui la nave si ferma magari per la notte in una località tipo Rüdesheim dove magari uno non vuole perdere troppo tempo a tavola perché dopo vuole uscire a fare due passi per il paese o per la città invece con questo tipo di pasto molto easy hai la possibilità di cavartela con poco tempo se ho capito bene insomma assolutamente sì è proprio un'opzione un'alternativa veloce possiamo chiamarlo noi magari lo chiameremo un po' il nostro aperitivo molto rinforzato con tanti assaggi diversi e poi velocemente uno può andarsi a fare la passeggiata può andare alla scoperta o può rilassarsi però appunto dà la massima flessibilità da questo punto di vista di non dover appunto stare magari seduti il tempo necessario per una cena servita per rimanere in tema la chiamerei la pericena assolutamente ci possiamo stare avrei voluto veramente avere qua uno di quegli assaggi sono spettacolari è un concetto veramente una cosa che non ti avevo chiesto era il range orario sì diciamo che appunto per quanto riguarda il pasto di solito siamo sempre tra le 12 l'una ma più che altro perché poi abbiamo le escursioni la mattina le escursioni il pomeriggio quindi quello è un pochettino range ovviamente chi non partecipa alle escursioni può prendersi tutto il tempo necessario per il pranzo quanto riguarda la cena la cena inizia alle ore 19 e continuo ovviamente fino a quando tutti gli ospiti hanno ricevuto la loro cena e in qualsiasi momento tra le 19 e le 20 e 30 i nostri ospiti possono arrivare al ristorante panorama e avere la possibilità ovviamente di servire tutto cioè dall'antipasto fino alla fine portata quindi a fine fine cena quindi in questo caso anche qui la flessibilità di orario sappiamo che qualcuno preferisce magari appunto come dicevi prima iniziare un po' presto per chi invece più magari un po' più come me otto e mezzo arrivo un po' tirato sicuramente non mancherà che ci sarà la minima cura anche per coloro che arrivano un po' più tardi molto bene Sky Grill pranzo barbecue all'aperto sullo Sky Deck che abbiamo visto prima un'altra opzione tempo permettendo ovviamente un'altra opzione inclusa anche qui libertà di poi di essendo questo un buffet servito poi di poterlo consumare dove si dove si vuole anche qui non è era per farvi vedere appunto che la scelta è molto ampia quindi non trattiamo solamente il classico hamburger e via dicendo ma la griglia poi pesce carne verdure grigliate insalate da poter comporre al momento una un'ampia scelta gelato quindi sempre sempre garantito e sempre ovviamente accompagnato come diciamo prima da tutte le bevande incluse ai pasti adesso come vi dicevo io di solito prendo un paio di chili a volte anche di più quindi per chi come mai si sentisse in colpa o per chi si è partito già con l'intento di mantenere un profilo di benessere abbiamo anche un aiuto da questo punto di vista e anche in questo caso appunto sono tutti i servizi inclusi il signore che vedete qui alle spalle è uno dei nostri Adventure Host l'Adventure Host è una figura fondamentale a bordo delle nostre crociere perché proprio facilita il benessere con delle lezioni ogni giorno che siano di Pilates di yoga di stretching che sono appunto a disposizione dei nostri clienti quando è possibile sullo Skydeck altrimenti all'interno non bisogna prenotare bisogna semplicemente unirsi se si ha il piacere e l'Adventure Host ovviamente segue sono persone ovviamente figure professionali certificate e quindi non si sono inventate a fare questo ma assolutamente persone di cui ci si può fidare per questo tipo di attività poi abbiamo la nostra sala fitness attrezzata e abbiamo la possibilità anche di prendere delle bici dalla nave senza dover pagare niente extra e semplicemente ovviamente firmando uno scarico di responsabilità alla presa della bicicletta che viene data con dotazione di caschetto e anche di lucchetto per poterla poi riportare indietro alla nave e tutta questa parte è la parte anche qui un po' più fitness diciamo per chi si è lasciato prendere dai peccati di gola perché hai sensi di colpa esatto senti ho visto che c'è stato veramente moltissimo interesse adesso finiamo col protocollo covid sì sì assolutamente volevo aggiungere una cosa visto che c'è tutto questo interesse io faccio una proposta le persone che come dire come dire draghi permettendo quest'estate riusciremo e covid permettendo riusciremo a muoverci a viaggiare che sono interessate a fare una crociera di questo genere se per cortesia lo scrivono nella chat senza alcun impegno oppure ci mandano mi mandano una bella email al mio indirizzo giannichiocero.it io metto insieme tutto facciamo un piccolo gruppo poi dopo parliamo con Simone e Barbara chissà se riusciamo a tirare fuori una data in cui riusciamo a mettere insieme una come dire un insieme di persone che si possono conoscere che magari riescono ad avere delle buone condizioni economiche e che riusciamo a festeggiare l'uscita parziale perché sarà una cosa lunga dal covid e quindi i primi viaggi che riusciamo a fare speriamo da giugno in avanti insomma perché questo ce lo auguriamo tutti a te l'ultima parola Barbara scusate io nel frattempo proprio per andare a prendere poi il protocollo covid mi sono assentata un secondo sempre a riferimento al protocollo covid c'è una persona che ci chiedeva i tavoli sono da quattro persone ma se sei solo in due non sei obbligati a condividerlo con altri ottima domanda i tavoli in realtà sono per la maggior parte da due quindi c'è la possibilità poi in realtà noi adesso appunto per il covid chiederemo di mantenere il tavolo con le persone che viaggiano insieme quindi con le persone che sono arrivate insieme ci sono tavoli da due e tavoli che arrivano fino a otto quindi appunto se ci sono già delle persone che viaggiano insieme possono ovviamente pranzare e cenare allo stesso tavolo in realtà poi in un momento normale c'è anche la possibilità a questi tavoli due di unirli a farli diventare tavolate se si è fatta amicizia appunto e si vuole si vuole pranzare e cenare insieme una cosa da menzionare appunto questo fatto del free sitting nel senso noi non facciamo non abbiamo turni per pranzo e cena come avete visto tutti i posti possono ospitare contemporaneamente tutti i nostri tutti i nostri ospiti e un'altra cosa importante non facciamo non facciamo prenotare i tavoli quindi ognuno ha veramente l'opportunità di provare anche a sedersi in posti diversi non ci sono tavoli assegnati e quindi ogni pranzo e ogni cena si può veramente sperimentare e sedersi in angoli diversi e vedere da lì il panorama velocemente la go app è una appunto la nostra app che dà la possibilità di avere sempre a portata di mano il programma del giorno il menù del giorno altre informazioni riguardo alla crociera e anche le mappe della destinazione che verranno veramente su cui anche l'adventurosta aiuterà molto proprio per partire andare a esplorare indipendentemente e avere anche la possibilità di segnalare dove è la nave in modo da poterci tornare senza problemi e ovviamente i link ai nostri social media perché con tutte le esperienze che sono a disposizione siamo certi che tanti vorranno condividerle e far capire quanto sia particolare e speciale questo prodotto piccoli dettagli lo sitan per i nostri prodotti di abagno ovviamente come in qualsiasi hotel 5 stelle vengono forniti la cappatoio e le ciabatte ad ogni ospite la possibilità di scegliere la morbidezza dei cuscini e del materasso quando si è a bordo con l'aiuto delle nostre ragazze appunto che si occupano delle camere e una cosa non trascurabile dimenticarsi le valigie metterle sotto il letto non averle che ballano in giro che occupano spazio e tirarle fuori solo quando sarà il momento purtroppo di rifarle per ritornare parlavamo appunto dei protocolli covid questo è proprio la fine di questa presentazione sappiamo che è importante quindi l'abbiamo voluto includere quando parliamo di protocolli covid abbiamo partiamo dal dire che comunque appunto in un ambiente così piccolo abbiamo sempre avuto dei protocolli di igiene molto molto stretti e studiati e continuamente in evoluzione in particolare in questo momento quindi abbiamo sempre avuto le stazioni di sanificazione per le mani ogni volta che si entrava in nave ogni volta che i clienti dalle loro cabine entravano negli spazi pubblici ristoranti lounge vi dicendo adesso abbiamo implementato ulteriori stazioni di sanificazione e ulteriori controlli ovviamente per essere sicuri che poi questi protocolli vengano studiati seguiti scusate lo screening sanitario prima della crociera riguarda sia i nostri ospiti che i nostri collaboratori a bordo e i collaboratori a terra cosa facciamo chiediamo una prova ovviamente di un test negativo fatto nelle 72 ore precedenti all'imbarco piuttosto che una prova di aver avuto il covid nei 90 giorni precedenti e aver fatto ovviamente tutta la trafila richiesta quindi l'isolamento e tutto quello che viene richiesto dal paese ovviamente di origine o in alternativa il fatto appunto di avere già ricevuto le due dosi di vaccino ecco e anche questo deve essere successo nei 14 giorni precedenti alla crociera quando si è a bordo finalmente si è arrivati appunto il nostro staff di bordo sarà lì per rendere la crociera piacevole e sicura e quindi sicuramente non come poliziotti per controllare ma semplicemente per ricordare determinate misure che è importante per tenere in considerazione per il bene di tutto in particolare il distanziamento sociale per cui appunto come dicevamo prima i buffet sono stati tramutati in buffet serviti e e menu quindi si sceglierà dal menu proprio per evitare questo agglomerato di persone al buffet per quanto riguarda tutti quei piccoli snack che venivano dati appunto nella club lounge alla coffee station e via dicendo stiamo optando per dei piccoli pacchetti quindi cose impacchettate singolarmente quindi in modo che non ci sia contatto di nessun tipo biscotti impacchettati singolarmente che siano assolutamente sicuri e ovviamente dappertutto forniremo il materiale necessario alla sanificazione anche nelle cabine in modo che oltre ai nostri protocolli proprio di pulizia di sanificazione che verrà fatta due volte al giorno i clienti abbiano del materiale con cui pulire determinate cose nel caso non si sentissero sicuri ecco l'aria è una componente importante appunto abbiamo capito che purtroppo questo virus poi si diffonde proprio nell'aria e questo è una cosa diversa da molte altre navi delle crociere fluviali noi possiamo garantire che non ci sia proprio assolutamente ricircolo d'aria a bordo delle nostre navi né tra le cabine né tra le cabine e gli spazi comuni quindi l'aria viene presa dal sistema di ariazione sempre dall'esterno e viene continuamente scambiato ovviamente grazie a queste procedure di pulizia sempre con aria ovviamente che arriva dall'esterno quindi questo è un'altra garanzia la crociera fluviale è sempre vicino a riva e differenza con in questo momento un prodotto che io amo che è la crociera sul mare però questo dà la garanzia di essere sempre vicini ai servizi anche ai servizi sanitari nel caso fosse necessario e quindi avere accesso immediato senza dover attendere ai servizi di terra e come ne parlavamo prima Gianni riguardo le escursioni sicuramente la scelta la grande scelta di escursioni dà la possibilità già di avere un po' una dispersione dei nostri clienti in vari gruppi ma ulteriormente abbiamo abbassato il numero di partecipanti per ogni gruppo che adesso si attesta tra i 10-15 partecipanti con la condizione attuale ovviamente attendiamo delle disposizioni da ogni destinazione dove andremo ovviamente su quanto sia il massimo di partecipanti per ogni guida e per ogni gruppo e per ogni pullman però appunto siamo pronti poi ad aggiustare il tiro come è necessario tutti i nostri la nostra crew come diciamo prima verrà testata molto di frequente oltre allo screening iniziale prima di iniziare il servizio faremo abbiamo anche tanti accordi con delle delle postazioni che ci seguono anche con la nave per fare dei test frequenti nel caso fosse necessario e con anche postazioni ovviamente fisse nelle destinazioni dove andiamo così saranno i nostri fornitori coloro che portano le merci a bordo coloro che vengono per per prendere i nostri clienti portarli in escursione tutti loro saranno sottoposti agli stessi identici protocolli certo dunque mi chiedono vedo che ci chiedono da da cosa come come si dice l'indirizzo email a cui mandare allora io ho detto il mio Gianni Chioccio la pianeta Gaia ma chiunque fosse interessato va bene qualsiasi indirizzo della nostro noi raggruppiamo tutto e mettiamo insieme tutto ovviamente non c'è nessun impegno ma se abbiamo un po' di persone cerchiamo di mettere insieme che ne so fare una richiesta e poi dopo vediamo che cosa ci dicono ho una domanda da un milione di dollari vai e cioè Luisa chiede da quando secondo voi si può ripartire secondo noi chiedono noi ovviamente ribalto la domanda voi avrete la risposta quindi sono certo assolutamente allora noi noi per le crocierie in lingua italiana siamo stati già sul chi va là abbiamo deciso di partire comunque partiremo con partenze da fine giugno quindi abbiamo ancora un po' di tempo per vedere come si sviluppa la situazione abbiamo partenze da fine giugno fino a oltre la metà di settembre al momento quindi questo ci dà anche un po' più di tranquillità proprio per poter operare noi siamo pronti a ripartire anche immediatamente probabilmente appunto c'è un movimento per quanto mi riguarda questa è una mia opinione personale le cose si stanno muovendo abbastanza velocemente adesso almeno insomma tutto il comparto del turismo si sta muovendo nel senso di dare cominciare a dare delle indicazioni un po' più precise quindi il passo è quello giusto e noi siamo pronti quindi condivido condivido quello che hai detto assolutamente anch'io sono non voglio essere ottimista per non tirarmele dietro però penso che avremo ancora due mesi ovviamente molto fermi poi spero forse qualcosa si muoverà e il tampone di cui parlavi prima ci chiedono se è un tampone molecolare o un tampone di quelli rapidi deve essere un tampone molecolare perfetto e adesso la domanda invece è per Simone perché ovviamente ci chiedono abbiamo un'idea di quote a partire da per avere un'idea di dove si va a parare diciamo adesso al momento io non mi cogliete in preparato le ho studiate le ho preparate le ho pubblicate però ecco sono tutte pubblicate sul sito quindi le potete trovare tranquillamente online sul sito qualitygroup.it come destinazione mentre è Germania piuttosto che Ungheria trovate programmi date e quote a partire da quindi sicuramente sicuramente trovate già tutto la cosa interessante che abbiamo diverse tipologie ovviamente di cabine la cosa interessante è che Avano ha deciso di promuovere le cabine panorama praticamente vendendole allo stesso prezzo di quelle base cosa che veramente non capita molto spesso quindi chi prenota prima ovviamente avrà la possibilità di trovare ancora dei posti nelle cabine panorama allo stesso prezzo delle cabine base quindi questo è buono per i prezzi basta andare sul sito sono tutti pubblicati sono già tutti comprensivi di volo transfer e tasse portuali chiaramente da aggiungere solite cose assicurazioni tasse portuali ma questo è come tutti gli altri viaggi diciamo esiste una policy visto che siamo in un periodo di covid se ce la ricordi solamente la policy per le eventuali annullamenti cioè uno può prenotare eventualmente cambiare idea fino a quando eccetera eccetera allora la policy del quality group adesso controlleremo se con Avano c'è uniformità di vedute poi se nel quality group è che fino a 30 giorni si riesce sempre che non ci siano delle compagnie aeree di mezzo chiaramente perché lì dove c'è la norma più restrittiva si ferma un po' tutto quanto però noi cerchiamo sempre di dare libertà ai clienti di decidere e di recedere per motivi appunto legati a queste emergenze fino a un mese prima della data di partenza adesso sentiremo bene per quanto riguarda il discorso Avano come sono messi anche loro con i loro fornitori si cerca di di tenere sempre il periodo più largo per poter prendere decisioni per poter eventualmente posticipare o annullare un viaggio ecco noi quest'anno ci siamo impegnati come quality group per cercare di dare questo margine il più ampio possibile a tutti quanti è chiaro che dove ci sono dei biglietti aeree da emettere questo diventa un filino più difficile però insomma si cerca sempre di scegliere tariffe che consentano il cambio o l'annullamento per quanto riguarda gli aerei e per quanto riguarda i fornitori si cerca sempre di contrattare le condizioni più favorevoli ovviamente per quanto riguarda eventuale cancellazione o spostamento di data un'informazione che forse per noi del settore è ormai scontata ma non è solitamente nei confronti dei clienti finali tutte le assicurazioni tengo a precisarlo quindi le vostre ma sono certo tutte le assicurazioni proprio non già la casistica covid certo la casistica covid quindi se la persona non può partire perché prende il covid se la persona assolutamente rientra già nella nuova polizia assicurativa multirischio che abbiamo già in dotazione tutte le casistiche che sono nel covid più o meno sono sempre tutte coperte se hanno chiesto a quale sito possono fare riferimento io l'ho scritto nella chat policygroup.it oppure fra qualche settimana pianeta Gaia ma per una piccola parte perché sarà una selezione che noi faremo in accordo con loro io direi che domande ne abbiamo avuto tantissimi Barbara hai fatto una spiegazione perfetta io raramente assisto a delle spiegazioni così chiare coincise ti ringrazio Gianni ti ringrazio moltissimo per la serata non sto a dirti che è andata bene perché l'interesse l'hai visto più abbiamo visto sono contentissima grazie a tutti per l'attenzione e per l'opportunità ovviamente speriamo di darvi il benvenuto veramente a breve sulle navi Avalon assolutamente sì io ringrazio tutti voi di cuore per la vostra presenza ringrazio Chiara Barbara Enrico e ovviamente Simone che ha tirato un po' le fila di tutta questa cosa e insomma è stato così cortese da portare a farci conoscere Barbara e Chiara se posso io ringrazio voi ringrazio Barbara che come al solito insomma come hai anche anticipato tu Gianni ha fatto una presentazione eccellente e ci tengo a sottolineare quanto ha detto Simone rispetto al fatto che Avalon proprio per il lancio sul mercato italiano 2021 dà la possibilità ai nostri ospiti di un free upgrade alla cabina panorama quindi è assolutamente un punto di forza per il 2021 e credo che i nostri ospiti non si debbano non debbano perdere questa occasione c'è un'ultima domandissima poi dopo vi lasciamo c'è Susanna che chiede se esistono due prezzi con e senza escursione mi pare proprio di no giusto? è uno lì inclusi il tutto è uno lì questo è il bello sì compri non pensi più a niente basta non hai più nulla da cui pensare vediamo un'altra un'altra domanda scusami velocemente che era legata che non ho menzionato mia mancanza non abbiamo il medico a bordo proprio perché in realtà il medico veramente l'accesso agli ospedali ai medici è immediato quindi non è necessario avere un medico a bordo ci possiamo veramente fidare delle strutture a terra bene io direi che possiamo andare a mangiare dopo quello che ci hai fatto vedere grazie a tutti grazie ancora grazie a voi ci chiedono se ci sono delle slide da continuare da consultare no però la serata che avete visto qui la vedete da domani domani tarda mattinata è sul nostro sito e potete rivederla o farla girare come volete come sempre succede io ringrazio tutti ringrazio i nostri amici di facebook ringrazio Barbara Chiara Simone Enrico e insomma tutti noi ci vediamo alla prossima grazie grazie ciao grazie mille ciao ciao Barbara devi chiudere anche tu perché siamo noi due che abbiamo il padrone del paporetto grazie a tutti